Per tutto c'è un inizio e una fine, ma a DigiTalk questo non vale perché noi siamo nel mondo veloce e quindi nel mondo veloce le cose non finiscono, finiscono al massimo le prime serie. Ed eccoci quindi giunti alla fine della prima serie. Ecco, in questi mesi sono passati ospiti davvero strani e oggi ve ne faremo vedere alcuni. Insomma, siamo rimasti io e Francesca a mostrarvi the best of DigiTalk e oggi ne vedrete delle belle. State con noi, sigla! Sì, sigla! Vedere in on demand sul sito DigiTalk TV e in tutte le altre forme di distribuzione multicanale che ha DigiTalk che ha avuto in questo periodo. Allora, Francesca è pronta a passarmi i contributi che incredibilmente vedo scollata perché lei fino adesso era stata molto casta giustamente su richiesta e anche sul suo grande piacere. Però oggi si è lasciata andare per quest'ultima puntata. E allora Francesca, visto che ti lasci andare, lascia andare il filmato. Però voglio dire, Steve Jobs rende lo stesso prodotto a 250 euro quando un lettore di pari dimensioni grazie a modo costa un decimo. Certo. Quindi voglio dire, non è forse la persona più indicata per fare, evangelizzare le case discografiche su prodotto prezzo. Però è anche colui che grazie al software iTunes, insomma, è un po' aiutato. Infatti ho detto, con tutto rispetto, anzi, l'esplosione, la musica da vendita, la musica regalo online. Ecco, Luca Vespignani, segretario generale della FPM, ha detto questo e in effetti col tempo poi Apple è stata copiata anche nei successivi prodotti e magari, sì, è vero, costavano meno. Però intanto loro sono ancora trendsetter nel settore dei piccoli dispositivi portatili audiovisivi per portarsi dietro l'audio. Sempre in questa divertente puntata c'era la giornalista Anna Masera della Stampa che sosteneva in realtà la pirateria in un qualche modo. Vediamone un pezzo. Un sistema che permette ai ragazzi o agli artisti eventualmente di fare, di creare contenuti originali utilizzando campionature di musica di cui di solito si ha bisogno del diritto d'autore. Allora, è per questo che è nato Creative Commons, perché è un tipo di copyright flessibile che permette di fare queste campionature e di creare musica e di piratare quindi liberamente la musica scambiandosela e si dice mashing in inglese, insomma, prendendo dei brani di un pezzo e brani di un altro pezzo senza chiedere all'autore e riformulando contenuti originali e rimettendo sul mercato nuovi contenuti originali fatti in questo modo e attualmente questa cosa è illegale in tutto il mondo, cioè non si può fare. Questo tipo di pirateria, io non la considero pirateria, allora pirati o pionieri è il nome della trasmissione, questi sono pionieri, sono artisti che fanno musica e la fanno in questo momento considerati pirati, ma non sono pirati secondo me. Sono pionieri i Vespignani? No, non mi sembra un argomento così importante, nel senso che si rischia di scambiare una pagliuzza per una trave. Ecco, quello annunciato da Anna Masera, giornalista della Stampa, tra l'altro molto attenta in questo settore, può darsi che diventi davvero un futuro possibile, uno dei futuri possibili, perché quelli che fino ad oggi erano pirati, magari domani diventeranno legali, perché in effetti i vincoli imposti dal copyright, vecchia maniera, sono un po' pesanti. Anna Masera sosteneva questo, è divertente vedere come Luca Vestipignani invece difendesse giustamente la categoria attuale, poi bisogna vedere cosa diventerà. Tra l'altro a Digital, che è stato ospite anche il ministro Lucio Stanca, il ministro per l'innovazione e le tecnologie, che ci ha in una totale di dieci puntate, nella totalità di quelle andate in onda su ETV, raccontato e spiegato e aggiornati appunto, quindi aggiornato voi, su quello che stava succedendo nel mondo digitale dalla parte di chi poi promulga le leggi, no? Cioè il ministro, vediamo qualche pezzo. La stessa logica è per le famiglie al di sotto dei 15 mila euro, abbiamo previsto un bonus di 200 euro, che in verità i fondi sono stati esauriti in pochissimi mesi, 150 mila famiglie hanno utilizzato questa possibilità e sto lavorando perché in questa finanziaria possiamo di nuovo avere dei fondi per riaprire questo programma a favore delle famiglie al di sotto dei 15 mila euro. Molto importante anche per il divario digitale, come dicevamo, insomma, perché bisogna anche Famiglia meno abbienti, poi i figli purtroppo se non... Ecco, divario digitale, infatti abbiamo parlato di tutti questi argomenti col ministro che poi sono stati argomenti ricorrenti in molte altre puntate a cui abbiamo fatto riferimento, per cui per certi aspetti è stata per noi una traccia importante per affrontare alcuni temi. Uno dei temi divertenti che ha segnato un punto, nel senso che i due mesi e mezzo, tre mesi di programmazione, tre mesi interi a dire il vero, di DigiTalk sono tanti, nel senso che alcune cose accadute nella prima puntata, già all'ultima appaiono stranamente desuete. E allora, ad esempio, in una puntata noi parlavamo di podcast e ne parlavamo considerando pochi podcaster italiani all'inizio, e oggi addirittura abbiamo presentato, adesso ve la faccio vedere, Emanuela.it che era la prima podcaster italiana. Beh, sembra già di guardare alla preistoria perché oggi sono parecchie migliaia. E allora andiamo a vedere cosa dicevamo allora. Quanti sono i podcast in Italia oggi? Allora, sono nati, diciamo, quasi un centinaio di podcast, però attivi veramente saranno tipo una ventina. Tra questi venti c'è un piccolo, piccolo per ora fenomeno di cui si parla molto, cioè questo Emanuela.it che è la prima podcaster italiana, tutti ascoltano i segreti che svela attraverso il proprio podcast, nessuno anzi si interrogava fino a qualche giorno fa se esistesse o meno, davvero, se fosse una speaker, se fosse vera, insomma, questa Emanuela.it. Noi, eccola qua, l'abbiamo portata qua in studio e lei mi ha fatto un po' di fatica a accettare, no? Non voleva, sapeva. Sì, volevo comunque mantenere, diciamo, non apparire per poter lasciare comunque questo mistero sempre vivo. Esiste o non esiste? C'è una multinazionale dietro o non c'è? Però per problemi tecnici non è stato possibile fare, allora eccomi qua. Ecco, un mistero svelato per alcuni, oggi fa sorridere, hanno 20, no? Oggi è anche digital, ma era già, insomma, un podcast distribuito in tutte le forme. Nella puntata della musica online si diceva che la democrazia digitale sarebbe stata percorribile e anche qualcos'altro di divertente, vediamo? Il fatto, la democrazia, diciamo, della musica digitale è ad oggi una completa utopia, nel senso che invece, per assurdo, oggi invece sono molto importanti i gateway attraverso i quali la musica passa e sono molto pochi. In Italia, sulla parte, ad esempio, online, il 60% del mercato è fatto da un'azienda che si chiama Apple, sulla parte, diciamo, degli operatori mobili esistono 4 player. Quindi è chiaro che non ci sono grandissime possibilità in questo momento. Però, ad esempio, siamo forti con i cellulari, potremmo approfittarne, no? Cioè, tanto quanto Apple ha usato i propri device per sì. Il canale della musica sul cellulare è un canale rilevante, però non è solo... Sì, volevo tornare a una cosa che si diceva prima anche sulla tipologia di utilizzo. C'è, ad esempio, una fondamentale differenza fra proprio la musica che viene acquistata sul wireless e quella online. Tra l'altro, poi, noi dopo poco siamo passati sui cellulari, no? Il digital che è diventato, insomma, fruibile attraverso i cellulari. In questo periodo, oggi per alcuni sarà normale accedere al Wi-Fi, no? Camminando per le strade di un'importante città italiana, qualunque sia, o dalla propria casa senza avere un cavo. Beh, solo poco tempo fa è stata liberalizzata, sono state liberalizzate le frequenze Wi-Fi. Qui lo annunciavamo. Pochi giorni fa il governo ha liberalizzato l'uso delle frequenze per la tecnologia Wi-Fi. Cosa succederà adesso? Beh, probabilmente meno modem e più banda larga. E questo a noi di Digitalk fa molto piacere. Sigla. Eh sì, ci fa molto piacere. Oggi è normale. È incredibile quanto Digitalk sia capitato in un momento di grande trasformazione. e noi abbiamo avuto la fortuna e l'opportunità di cogliere questi momenti. Tra l'altro momenti a volte anche divertenti, perché Digitalk è un programma, diciamolo, serio. Però allo stesso tempo non si lascia sfuggire momenti divertenti. E quando si è parlato di innamorarsi in rete, ricordo il Costantino della Gerardesca, beh, insomma, ne ha detto alcune che ci hanno fatto arrossire. Vediamo, Francesca. È bella, intelligente, simpatica. Non so il trucco, magari c'era un trucco poi. Si incontrano in modi molto complessi, tramite dei segreti che si rivelano solo su internet. Tipo il Duca di Windsor e il Miss Simpson. Entrambi avevano deformità genitali. Però... È per quello che stavano insieme. Stavano insieme. Quello che ha rinunciato. Bene, meno male che il tempo è finito. È un argomento che dovrebbe, insomma, bisognerebbe saperne di più. Grazie. Ecco, il nostro amministratore delegato di ETV che ci manda in onda e coproduce, insomma, visto che si era un po' teso, poi ve lo invito, ve lo faccio vedere, perché, insomma, non siamo una televisione che tratta questi argomenti con leggerezza. E quindi ci ha lasciato, però, insomma, siamo riusciti a curare il danno con attenzione. Cioè, ogni tanto, è un po' sudato, ogni tanto si suda, ma... Ecco, divertente questa introduzione che poi ci raccontavano i ragazzi della produzione perché è stata un po' complicata. Vediamola strana. C'è una quinta dimensione, oltre a quelle che l'uomo già conosce. È senza limiti come l'infinito, è senza tempo come l'eternità. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra lo scuro baratro dell'ignoto e le vette luminose della conoscenza è la regione dell'immaginazione, è la regione delle nanotecnologie, è la regione che si trova ai confini della realtà. Ecco, in realtà, a noi quest'intro l'abbiamo rifatta cento volte, anche perché io, insomma, sono un po' abituato a andare un po' a braccio, no? E quindi qui invece c'era da ricordarselo e non ce la facevo, non ce la verso. Ma in questa puntata in realtà sono successe cose serie, perché, per esempio, il dottor, il professor Marazzi, ci ha presentato i tessuti del futuro parlando di nanotecnologie. Vediamolo. Che altro c'è? Sono curiosissimo. Ma altro c'è queste calze, fatte con sistema nanotecnologico. Sono calze all'argento, con fibre sottili all'argento, infilate nel cotone, fatte dall'industria italiana. Ecco, ma il prezzo sul mercato di questi nuovi prodotti? Ma sono molto bassi, costano quasi zero, come le normali calze che vengono fatte. Perché il costo industriale è più basso. Basso, sì. E su questo tipo, ad esempio, per i nostri pazienti che hanno dei grossi problemi, anche per gli atleti, le maglie degli atleti, si possono fare in questo modo. I camici dei medici, che di solito hanno dei grossi problemi, perché si possono effettare contatto con determinati reparti o meno, si autodistruggono i batteri, in poche parole. Ecco, il professor Marazzi è un genio, direi, perché lui parla con estrema naturalezza di futuro. In realtà per lui è presente nei suoi laboratori, i tessuti costruiti con le nanotecnologie sono il presente e addirittura, forse, il viaggio nel tempo, il teletrasporto, dice che non sono poi così lontani. Beh, è una persona molto seria di cui fidarsi, altrimenti davvero sembrerebbero quasi barzellette. E a proposito di barzellette, beh, abbiamo avuto ospite un cracker, che però, insomma, avevo nominato verroneamente hacker, avevo chiamato hacker e si è rivoltata la comunità, giustamente, della rete, dicendo che non si fa così. Beh, vuol dire che quando si parla di te, vuol dire che qualcosa, no? Qualcosa si sta muovendo. E infatti lì ci siamo accorti che Digito che cominciava a farsi strada, a farsi spazio nel mondo delle sinapsi altrui, di quelli interessati alla tecnologia. E a tal proposito vi faccio vedere la puntata in cui cercavamo di far pentire il cracker e farlo tornare hacker. Voglio solo fare una battuta a H2402, dopo avergli chiesto prima, ma dopo questa puntata, un po', ti sei pentito? No, io voglio, anche io, se posso aggiungere una piccola cosa, vorrei dire alla signora Masera, che i giornalisti, insomma, hanno un grosso potere con la stampa e la comunicazione. Se voi, cari giornalisti, chiedeste gentilmente a chi fa queste cose... Io non sono un giornalista. ...di non essere... Hacker 24-32. Io ho intervistato e ho scoperto il primo hacker italiano famoso, quello che sfondò la Banca d'Italia, nel lontano 96. Era la Ulchiesa, eh? Era la Ulchiesa. E lo intervistai per Panorama dieci anni fa. E lo chiamai smanettone, gli diedi credito dell'hacking etico, parlammo dell'etica, dell'hacking, di essere smanettoni di tutti i bravi ragazzi che giocano, che vogliono insegnare le aziende a comportarsi bene. E alla fine Raul Chiesa si pentì e adesso fa l'esperto di sicurezza informatica. Io mi auguro che anche lei prima o poi colga questa occasione per rivedersi. Ma io non mi occupo di sicurezza informatica, mi occupo di sviluppo software, di filosofia, anche nella stessa specie, anche. E credo che invece il problema è non mandare i figli nei posti cattivi, ma mandare solo nei posti buoni. Beh, su certe cose siete d'accordo. Posti cattivi, posti buoni, eh? E' forse facile, poi col fishing, eh? Distinguere quelli buoni da quelli cattivi. Mi fa piacere vedere che anche Anna Masera, molto attenta e scivolata sull'hacker. Però vabbè, è mal comune, mezzo gaudio. A proposito di questo, anzi non ci sono propositi, mi viene in mente che abbiamo fatto una puntata sulle intercettazioni. Beh, quella puntata, praticamente tutto lo studio, che tra l'altro stasera poi vi voglio far conoscere, è venuto a farsi controllare il cellulare per vedere se era un cellulare spia. Vediamo cos'è successo. Negli ultimi tempi, come dicevamo prima, tantissime persone si sentono spiate, quindi per essere un po' più tranquilli possono rivolgersi a noi benissimo con queste attrezzature di ultima generazione. Faremo delle bonifiche, sia le linee telefoniche, voglio dire, private o azientali, e più anche i cellulari. Hanno l'assoluta certezza, con il nostro intervento, se effettivamente gli apparecchi sono sotto controllo o quanto meno, cioè voglio dire, se sono sotto controllo da parte di persone che vogliono fare spionaggio industriale. Ultimamente, con tutta la tecnologia a disposizione, i sistemi sono sempre molto più vulnerabili, parliamo da internet, tutti i sistemi di comunicazione sono molto vulnerabili. Mi permetto di interrompere, sono curioso, voglio farne qualche domanda. Allora, i cellulari so che possono essere, me l'ha confermato anche lei, possono essere clonati. Ecco, un'altra cosa ricorrente nelle nostre puntate è la pubblicità. Un minuto e torniamo. E poi, e poi stranezze, abbiamo avuto una puntata sull'intelligenza artificiale con i robot, una volta è incredibile, la nostra redazione trova delle cose strane. Tra l'altro potete anche venire in campo, allora, Emanuela e Jacqueline, forza, forza, Emanuela Lodula e Jacqueline Valenti, sedetevi, eccole qua, sono loro che chiamano i nostri ospiti. Ecco, avete trovato i robot? Come avete fatto a trovare i robot? Te lo ricordi? Mille telefonate. Mille telefonate. Mille telefonate e Dottor Marazzi, sempre. Sempre Dottor Marazzi? Sì. Ma il robot era Dottor Marazzi? Ma insomma, Emanuela, ah, vi dimenticavo, Emanuela tende spesso a fare confusione, infatti anche stavolta ce la parla. Allora, vediamo il robot. Hanno realizzato questo sistema, tutto l'ora e tutto, dalla ruota fino al sensore, ogni dettaglio. Abbiamo dato un contributo minimale di euro per costruirlo, il robot si muove, individua se c'è una candelina accesa, c'è una fermella accesa, si avvicina, dopo un percorso che si prefigura il più veloce possibile, quando è a circa 15 centimetri si ferma, attiva la piccola ventola, soffia e spegne la candelina. Ah, ecco, eh, i robot utili, i robot ha trovato una mera dei robot molto utili. Sì, è stato Marazzi a segnalarlo. No, no. Sono stata su una notte a cercare. Ah, sei stata su una notte? No, no, no. Ho capito dentro i robot. Ecco, poi è successo che a proposito di Mac, no, di Apple, eccetera, in una puntata sulla musica digitale, praticamente c'era Andy, dei Blue Vertigo, a cui ho chiesto, beh, ma tu col Mac che rapporti hai? Vediamo cosa ha detto. E il Mac era effettivamente il primo strumento, il primo computer, che aveva un'interfaccia grafica con cui si potevano fare delle cose visive, anche sonore. PC doveva una scheda audio e solo da poco che ce l'hanno integrata. Fino solo a qualche anno fa quando compravi un PC spesso ti arrivava senza scheda audio. Questo ha fatto sì che... Oggi effettivamente è vero, io sono un po' di parte, si vede, però, insomma, non avevo un tweet. poteva esserci... Insomma, di solito, ecco, chi fa musica usa Mac. Tu sei un pentito? No, più che un pentito, sono innanzitutto uno non schierato, che non sono mai stato un estremista, ma ho sempre avuto Apple, e mi rendo conto che comunque la storia è cambiata. Un tempo c'era un'effettiva differenza, come tu dicevi. Oggi sono un po' stanco, a dire il vero, ma non per quello che riguarda il logo, il fanatismo o il fenomeno di costume che si crea attorno, quanto del sistema operativo. Io ho sempre ritenuto il Mac innanzitutto più protetto per quel che riguarda internet e più affidabile in linea generale. Ho provato a comprare un PC portatile, soprattutto il rapporto della qualità al prezzo rispetto a come si sta comportando la macchina non ha... non ha uguale, cioè con gli stessi soldi non prendevo quello che mi serviva. Beh, interessante, moderato, attento, veramente a volte siamo riusciti ad avere commenti molto intelligenti, divertente anche una puntata sulla moda dove il Cavalier Boselli ha sgridato un giovane studente che poi o mai ha finito di studiare, poverino diplomato ed è anche bravo, anzi forse grazie alla nostra puntata ha conosciuto personaggi importanti. Vediamo cosa gli è successo. Una sola preghiera, non mi chiami Maglino il Jersey. No! Io soffro, perché essendo un produttore di tessuto a maglia bello, e quindi Jersey o Intero quando sento Maglina ho uno sconvolgimento interiore, è l'unica preghiera che le rivolgo. Per il resto d'accordo con lei, perché in realtà il Jersey, come si è parlato? Ecco, poi ovviamente spiegava insomma il Jersey eccetera. Un'altra puntata interessante, perché a Digital parliamo prevalentemente di tecnologie digitali, ma non solo di tecnologie digitali, anche di tecnologie per esempio nella medicina. Allora in una puntata il professor Fazio ci ha spiegato, anzi, ci ha aperto uno spiraglio verso il futuro e dove parlava di farmaci su misura, un vero futuro, molto azzardato, parliamolo, vediamolo. Professor Fazio? I farmaci su misura, oggi è possibile andare a vedere sia con la proteomica e la proteogenomica sia anche con l'imagine molecolare quelli che sono le alterazioni metaboliche e in base alle alterazioni metaboliche costruire un farmaco ipoteticamente anche per un singolo paziente in un futuro. Ho capito, questo suona molto come futuro professor. E poi anche cosa manca alla cultura politica oggi in Italia? Una domanda particolare con i politici, anzi con i capi della sezione internet dei partiti politici vediamo. Che cosa manca oggi non ovviamente in senso ampio se no ci vorrebbero tre puntate ma alla cultura politica per comprendere a fondo le opportunità offerte dalla rete? Manca una visione che gli consenta di riconoscere nella rete non un ulteriore supporto dopo il telefono dopo la radio dopo la televisione ma un sistema di relazione interattivo e vuol dire la possibilità di una produzione condivisa e cooperativa di conoscenze e di informazioni rispetto a questo manca questa capacità e laddove c'è qualche intuizione prevale ad oggi la paura rispetto all'opportunità la paura di vedermessi in discussione ecco e poi abbiamo avuto anche ospite il professore Taormina l'avvocato Taormina con cui abbiamo chiesto cose interessanti sulla tecnologia e lui ci ha risposto in modo altrettanto interessante vediamone un pezzo però è un diciamo una posizione di indagato che gli fa onore perché se per caso venisse fuori se per caso si dovesse accertare che questa interlocuzione telefonica fra due persone che parlano di quello che dovrà avvenire di lì a qualche secondo con riferimento alla sorte di Calipari lei capisce che la storia dei rapporti d'Italia-America dovrebbe essere riscritta ecco e poi tra l'altro abbiamo dobbiamo salutare un mucchio di persone esterne a Digitoc nel senso che per esempio gli uffici stampa che ci hanno aiutato a trovare gli ospiti a contattare gli ospiti è vero Jacqueline? è vero è verissimo a parte i quattro ospiti che avete visto in studio c'è tutto un lavoro di preparazione grazie anche al lavoro appunto degli addetti degli uffici stampa degli assistenti degli segretari di tutto quello che c'è e che serve proprio Digitoc è un programma digitale quindi insomma siamo un po' autoreferenziali anche per darvi delle informazioni come si fa una produzione televisiva e come si fa una produzione televisiva beh ci vuole un elemento importante l'elemento importante per esempio è uno degli elementi più importanti tra i più importanti cioè il producer il produttore esecutivo Alessandro Mascali ecco ciao e lui insomma organizza la produzione quindi di fatto non so dobbiamo registrare a che ora dobbiamo registrare alle otto ci pensa lui Alessandro alle otto eccetera poi c'è un'altra figura che su Digitoc è stata davvero importante e si chiama Francesca 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 la navigatrice indefessa quella che naviga in continuazione che non smette mai che ha passato ore a volte ha dormito lì non c'è stato verso per sommo dispiacere perché poi quando dorme la notte c'è un paese straordinario di Gianluca Rintocchini che ci ha permesso di fare di evoluzionargli insomma di venire qua e mettere disordine a casa sua in altre parole abbiamo un po' un po' appavimentato le cose Gianluca ma ne basta la pena ne basta la pena assolutamente sì avete fatto tutti un lavoro eccezionale gli devo fare complimenti per come hai lavorato e come ha lavorato tutto il team è stato veramente eccezionale insomma dobbiamo pensare di fare DigiTalk al quadrato al cubo e continuare con le prossime serie l'ha detto lui l'ha detto lui l'ha detto lui allora come dice lui giustamente DigiTalk insomma è un programma fatto da tante persone che ora vi presento allora cominciamo a chiamarle Valentina Giovanazzi avanti ufficio stampa e tv e DigiTalk chissà magari quanti l'hanno sentita al telefono Caronia Degetto pubblica relazioni di DigiTalk cioè quella che dice ecco lei come mai non viene come si permette di non presentarsi a DigiTalk eh faremo prenderemo provvedimenti Martina Costantini che ha fatto la scenografia eccola qua trackete quello che vedete perché Martina Costantini ha disegnato pixel per pixel con i puntini lavorare Gianluca Mingotto eccolo qua assistente di produzione lui corre sempre fa tutti in piedi anche lui un altro pilastro insieme ad Alessandro insieme a tutti insomma siamo una maglia una rete che lavora eccolo qua Igo Ziglioli che è una specie di loop che adesso è qua ma poi si rivedrà perché si rimonterà lui monta tutto lui sta insieme ovviamente in senso cinematico è visivo e poi abbiamo abbiamo Martina Maria Grazia Maria Grazia Maria Grazia Maria Grazia è cartisano è cartisano perché ho paura quando la vedo scappo perché mi vuole continuamente truccare allora con gli ospiti qua faccio delle figuragge sembra che insomma sia un po' Narciso in realtà in realtà no in realtà è lei che mi vuole truccare se no io andrei in onda anche ma è vero perché mi aggiunge e mi toglie almeno qualche e poi e poi e poi cosa ci fai vieni qua vieni qui Massi Willy mentre tu vieni qua Willy vieni qui Willy assistente di studio si chiama William Bain Bain come farà le cose lui di solito quando le fa poi invece il nostro fonico Simone Maggi ecco Simone Maggi è qui eccolo qua che lo vedete eccolo è lui eccolo e poi e poi la regia è importante abbiamo il nostro programmista Massimo Pozzoli dai fai una corsa corsa qua e mentre arriva la regia allora ringrazio Tiziano Mureddu Luigi Nino Antonio Verga della Epson Alessandra Auriglio della Epson Stefano Alberto della Epson Matteo Nino il colonnello Giuliacci tutto l'ufficio Epson Meteo Nico Toddi Elvio Menegaz Simone Giovoni Walter Taglietti Andrea Granata Monica Bonifazzi Oliviero Nicastro Oliviero Nicastro che ha aiutato per la sigla Buresta che ha aiutato a un altro pezzo di sigla Luca De Biase che insomma è omnipresente in questa produzione ha condotto anche un programma che si chiama DigiWeek poi Tiziano Fogliata che praticamente ha realizzato il sito internet digital.tv insieme a Pier Sergio Trapani di Gruppo 36 che insomma ci sono dati una grande mano anche Luca Conti ha contribuito enormemente Andrea Faccoli dell'emissione Walter Taglietti del Mixer Sound Luca De Thomas dell'Atlantis Michele Della Rocca della DPE non ultimo Michele Ficara che mi ha presentato Gianluca Lentocchini con il quale grazie a questo incontro insomma poi abbiamo firmato questo contratto che ci ha permesso di far nascere Digital la produzione di Digital che di produrlo insieme e fare questo lavoro che insomma sembra che sia piaciuto a molti tutto lo staff della Gromas tutto lo staff di Sto Fumando Fuori e tutto lo staff di Speakage che ci hanno aiutato enormemente anche per gli ospiti Flavio Parenti che ha un altro pezzo di sigla Davide Del Trucco che prima mi rincorreva lui adesso Maria Grazia mi ha aiutato perché ha scritto molto per Digico dall'inizio alla fine Maurizio Goez che ha contribuito nella parte autorale specie delle ultime puntate Paolo Conti invece lo ha fatto nelle prime puntate Daniele Cappello per l'encoding e tutta la produzione di Sat TV e non manchia che mancava quello che adesso è arrivato che si chiama Adelmo Togliani eccolo l'applauso e allora Loretto praticamente ti sei preso l'applauso proprio l'unico ma che brava ma vedi perché poi vedi per lanciare un applauso basta fare e adesso Adelmo Togliani basta dirlo così l'applauso parte è solo una questione di dirlo nel modo giusto bene chi manca? finito posto siamo tutti abbiamo gli operatori gli operatori uno è lì allora abbiamo uno è lì lì e qua qua ecco l'operatore poi c'è anche Tiziano che lo operano lui ecco l'altro operatore perfetto Gian Mario ecco siamo tutti direi che manca Marco giusto? ringraziare Marco io volevo solo dire l'ultima cosa che alla fine ragazzi abbiamo creato un team piccolino tranquillo e abbiamo prodotto 65 puntate vedi lui potrebbe essere anche siamo pronti per le prossime 65 bene siamo pronti per le prossime 65 ma l'ha detto l'ha detto l'ha detto le puntate allora io non lo porto via il portatile lo lascio qua lo chiudo e basta pronto per la seconda serie di DigiTalk un saluto a presto bravo applausi grazie grazie